A tre anni dal terremoto nel centro storico dell'Aquila sono solo due i palazzi dove sono iniziati i lavori di ricostruzione. I cantieri si sono aperti a Palazzo Paone, all'angolo tra via Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele, e a Palazzo Leli, entrambi edifici di pregio sotto il profilo storico architettonico. Come avete fatto a partire visto che tutto il resto della città è fermo? Noi ci siamo avvalsi, come penso tutti gli spettatori sappiano, questo terremoto è stato scandito da ordinanze e degredi. Quindi ci siamo avvalsi delle due ordinanze fondamentali che sono la base di questo tipo di lavoro, che sono la 3881 e la 3917 e del decreto 3, articolo 8, che avrebbe messo in condizione chiunque di poter eventualmente partire all'interno anche del mura del centro storico. E quindi abbiamo avuto la possibilità di ottenere l'indennizzo sperato e di iniziare i lavori di ristrutturazione. E prima dell'estate si contapartirà anche il recupero del primo edificio pubblico, Palazzo Camponeschi, fino al 6 aprile sede della Facoltà di Lettere e Filosofia. Il professor Dante Galeota, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Università, coordina la piccola ma motivata e altamente specializzata equip, che si occupa di analizzare il danno ed elaborare proposte di intervento. Queste fessure sono dei tagli fatti con una sega circolare. In quelle fessure vengono situati dei martinetti piatti, sono degli elementi sottili di acciaio che poi vengono mandati in pressione o con olio o con aria e schiacciano quella porzione di muratura. Quella compresa tra le due lame. E quindi ci danno una indicazione, però bisogna dirlo indicazione, sulla resistenza a compressione, quindi sulla capacità portante di questa muratura. Però sono indicazioni, perché come potete vedere la realtà è molto caotica e quindi non è facile interpretare realtà di questo tipo.